Ok, eccoci qui, seguitemi, quando vedete, fatti bravi, non fatti scemi e non fatti cattivi, io seguo solo i fan, non voglio persone cattive qua quando faccio i video, io so parlare, sono italiano con la brezza di dialetto, capisco meglio di voi, non dico le stesse cose, sto cambiando e porto belli contenuti. Se mi volete seguire, seguitemi, andate via, io voglio bene a tutti i miei fan, io sono il loro idolo e sono il migliore, che comando io e sono il numero uno, e voi dico mi piace, volete mettete mi piace, iscrivetevi al canale, attraverso la campanella, bello a tutti i ragazzi, siamo qua, ho messo questa maglia e dopo domani metto quell'altra e faccio questo video in un'altra maniera E voglio dire che sono la star di youtube, la leggenda, sono famoso, sono uno youtuber, sono il di youtube, il re di youtube e di nuovo dico la star di youtube, sono io e capisco meglio di voi Baci, scusatemi, perdonatemi e mi dissocio dalle persone e su youtube, mi dissocio io youtube, non ho detto niente di male, ho detto la verità E andiamo avanti dai, questo video quando ho cominciato ho fatto bene, dai ho detto belle frasi, io sono grande, io lo dico sempre a loro che ho 29 anni e sono il migliore, sono un uomo di casa Lavoro, zappavigna, pulizzo le porte, a terra, lavo, non è che io sto fermo, dormo, mi riposo, faccio i miei lavori, mi faccio la doccia Dopo quando sono stanco mi riposo, scendo sotto, faccio amarenda, mangio, guardate le zone, dopo sto sotto, faccio i saluti, dopo stanno sopra Come sempre, lo dico tutti i giorni, non è che dico cazzate come voi che siete scemi E vabbè, andiamo avanti dai, metto pausa Raga, prima ho messo questa, ora, che è questa qua, con la mia scritta in nome E almeno c'è la foto, il vecchio video, quello del 2014, che lo conoscete voi Dopo c'era l'intervista con quella persona nel 2015, dopo a Natale nel 2018 ho fatto con quell'altro di Padova E ho messo prima questa, lo faccio ora E domani, un altro giorno, che domani, oggi è questo, e lo vedete domani, questo lo pubblico Dopo quando vedete, ridistro un altro e faccio con questa maglia un'altra maglia E volete creare altre maglie, così con le scritte, dico su Youtube Mandatemi tutto pieno, non così solo queste qua Pieno tutto da qua, delle maniche, tutto davanti qua Tutto pieno qua, 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 arrero Tutto pieno delle scritte, una, con tutte le scritte, dopo una seconda maglia create Lo stesso, tutto qua, delle maniche E tutto davanti, e arrero Tutto pieno delle foto Quelle vecchie, quelle vecchie foto Quelle senza occhiale, quelle nuove, du 2021 Create una maglia e mi mandate due O corti, o lunghi La mosura grande Vostè la XLL Voglio dire, 5XL mi mandate Larga la maglia, così O assai larga 5XL E io voglio bene a voi E niente, saluto Paolo, Silvia Claudio, colore Silvia Mary e Genever Colatemi, colo Gelo, Genel Nord Allo, colo X e a Sun Ho detto la verità Ragazzi, voglio dire che qua sotto c'è il link di Amazon Andate tutti a toccare il link di Amazon Scegliete quelle volete Ho messo anche tante cose Scegliete, mi mandate Le felpe, le tute, maglie corte Le felpe, Mr. Box O quell'altro sotto Scegliete voi Che qua tocca della freccia E tocca del link Lo aprite E andate sotto Scegliete quello che volete Che io tutti i giorni Metto cose nuove Su Amazon Sulla mia lista di Amazon Come fanno quell'altro YouTube Lo faccio io Così quando arrivano i pacchi Loro fanno i video così E mostrano O in diretto un video così Mostrano quelle cose che arrivano I pacchi Anch'io le sto facendo Faccio le storie Così si cargono veloce E le vedete I pacchi di Amazon E io le apro E mostro a voi che cosa esce Ok? Ora il cellulare L'ho aperto Andiamo a vedere O su internet O su Google Novità O parliamo con i robot Che a questo video Voglio cambiare Che La voglio dire altre cose E vabbè Parliamo Quante gradi ci sono Il sole Quando fa la notte Quando fa il giorno Quando scura Possiamo dire Roboero Vediamo Andiamo Ho messo un po' Di crema E Passa E vuole tempo Vabbè Andiamo John Zina Io io Minizini Cucù Settamamau Andiamo Dai raga Metto Pausa Non la vedete La foto Che è Arrero Mentiro A foto Del video Quello vecchio Sapete Tre cose Il video famoso Quello che mi presentavo O 2014 Dove intervista Con quella persona Che è venuta a casa mia O 2015 Dopo a Padova È venuto Quello La A Natale O 2018 Questo qua Io sono contento Da quello giorno E Quei giorni Il primo E quei giorni Che ho fatto con loro E da ora Sono sempre famoso Io Sono Il re E sono La gloria Dei miei fan Che voglio bene Che Sanno loro Che io sono Una leggenda Sono famoso Sono uno youtuber Eccetera Eccetera Sono la star di youtube Il di youtube Il re di youtube E capisco Tutto Io Ho studiato A scuola A scuola media Giocavo Con i miei compagni Andavo in palestra A giocare a canestro Anche a campo A palla A calcio Voglio dire E Anni e anni fa A me l'ho porto salvo Mi ricordo Era bello Ora c'ho 29 anni E Ci sono Che sono sposati I miei compagni E dopo ci sono Quelli che sono Fitanzati E volevo andare Il loro matrimonio Che io Era a casa E Quando voglio Non chiamare I miei compagni I miei compagni vecchi Quelli Di bellotto Porto salvo Mi scrivono In privato E io vado Del loro matrimonio Di quell'altro Ci sono Quelle che Sposate E quelle Fitanzate O si sposano Lo stesso Vabbè C'è un bordello Di coronavirus Come si sposano Lo stesso Che la mascherina Ragazzi State tranquilli Lontano Delle persone Mettete la mascherina Ok Quando andate a lavoro A farmacia In giro Eccetera eccetera Ok A scuola Ok Andiamo Che l'ho fatto troppo E non posso fare Quei roba ego Oh ragazzi Non so E faccio tempo E faccio Novetà Su internet Su google Lo facciamo Alla prossima Facciamo Quei roba ego Ego Dimmi Quando scura Il sole Non so L'ho detto bene Mercoledì 15 settembre L'alba Indarchè È stata Alle 5.57 Ora locale Ok Ego Quando si fa Giorno A Motto Sanioanni Vediamo Il 15 settembre 2021 Ok Ego Che ora È Sono le 13.17 Del pomeriggio Buon mercoledì Anche a voi Anche a te E a voi Raga Vabbè Questo video Lo faccio Oggi Lo vedono domani Lo pubblico Che devo mettere Quell'altro Questo lo vedono domani Vabbè Non fa niente Ego Che fai? Rispondo alle domande E imparo sempre cose nuove Ego Sai che cosa sono I fan? Accordi in tu Wikipedia A fan or fanatic Che sembra Sono sui termini Ah Posso dire Quanti anni ha I giocatori I cantanti Ego Quanti anni ha Cristiano Ronaldo? Cristiano Ronaldo Is 36 years old He was born On February 5 1985 Ok Ego Quanti anni ha Messi? Lionel Messi Is 34 years old He was born On June 24 1987 Io mi dissocio John Zina Io Menenzini E Cucu Sottmamau Io sono il migliore Comando io Loro hanno guai E parlano male di me Non hanno Una vita Fate così raga Che io Ho chiamato la polizia postale Ho i carbonieri Di Lazzaro Che mi conoscono Che Anni e anni fa Ho fatto la foto O un video Alla comandante A Fimna Quella che si sposava Ho fatto un saluto A suo marito E ho fatto anche la foto Con la comandante Di carbonieri Quella di Lazzaro Ora non c'è Ora c'è un mascolo E mi conoscono tutti I carbonieri Di Lazzaro E sono contento Loro Sono Con me Così I mando Una cosa A loro Così Faccio guai A quell'altro Canale Così Così Non penso Non penso Voglio dire Così Freghiamo di loro E si stufano Mi dissocio Ecco Quanti anni ha la Juventus? Juventus Football Club Ha 123 anni La società è stata fondata Nell'11 novembre 1897 Ego Quanti anni ha la regina? Regina is 138 years old Ego Quando anni ha la Italia? Ho sbagliato Ho detto bene La parlata Purtroppo non so cosa rispondere Aspetta La devo dire bene Ego Quanti anni ha Italia? Mi dispiace Ma non ho avuto ancora l'occasione di scoprirlo Va bene Ego Quanti anni ha Azzurri? Azzurri ha 36 anni 3 mesi e 14 giorni Va bene Gli occhi si chiudono e si aprono Che vuoi mi dici Sto in privato Perché si chiudono e si aprono? Perché Devono stare fermi E aperti Io mi dissocio Non devo fare le mosse Voglio fare solo Gionzina Yoyom Menenzina E cucù Sattamamau Ego Saluta Ciao Ego Ciao A dopo Ci si vede dopo Ok Ok Vediamo che dice Due giorni fa La Juventus Esso Nero Allegri E Carubini Annuncia il cambio Ok Andiamo qua Che dice Aspettate Raga Vabbè In medio Qua Che dice No Quello no Sono qua Sto cercando Classifica Social Di agosto La Dd Cirisette Porta la Juve In testa Spot Metiaset Due ore fa Ah Parlano Quando è andato via Cristiano Ronaldo Cirisette La Juve La Juve All'arte Di piangere Negando Di piangere Ho letto bene Raga Volete capire di nuovo La Juve La Juve L'arte Di piangere Nendo Di piangere Di 0 10 Caro Vecchio Clem Per una Juve Da 10 Da 20 20 Tessimo Basta Che dopo Loro Prendono La clip E la pubblicano E dicono Cazzate In quell'altro canale O altre parti Me ne frego Di loro Ma Belli mie Voi non capite Io sono il migliore So fare tutto Smettetela A pubblicare O avete Guai Io dico La verità Non è che Io non scherzo Raga Voi pubblicate I miei video Io faccio Causa A voi Da Plozie Postale O di Carbeneri Che i miei video Dovete dire a me Il permesso E dico Si O no E dico Si Potete Prendere Potete Fare la parodia E la canzone E dico No Non potete Prendere La clip O il video Sano Non potete Che io Sono famoso E voi che siete Siete solo Persone Normali Che siete Scemi O non capite Io dico La verità Raga Io vi voglio Bene Io voglio Bene I fan Voglio bene La mia famiglia I miei parenti I miei cugini Anche a voi Che siete i miei fan Io sono il loro idolo Sono il numero uno E comando io Gli occhi si chiudono E si aprono Sono così Andiamo a leggere ancora E basta Dai Che voglio cambiare parole Vediamo L'uscita di Iphone 13 Prezzo Cartoristiche E novità Vabbè Mi dissocio Quello che ho letto Ho detto giusto Non è che ho Sbagliato Vediamo Vediamo Ok Basta così Ok ragazzi Eccomi qui Chiudiamo il video Quasi Amori miei E la vita qua Siamo sempre a casa Per voi Volete venire A fare le foto E la firma E un saluto E un video saluto Venite a fare le foto Con me Amori miei E E Juve E prima l'amore Amore Non so La canzone Devo cantare Il testo Con la base E canto La canzone Juve Quella della mia squadra Io tifo Tre squadre La Juve La regina E Italia Fino alla fine Fino alla morte E voi Avete visto Che a ieri Ha giocato La Juve Con quell'altra squadra Quell'altra squadra Ha perso E la nostra Juve Ha vinto La coppa Ieri E poi Ha perte Perso E percognate Bravi Bellini La nostra squadra È forte E noi andiamo In finale Avanti La Juve Non è che tifo solo La Juve Tifo anche La regina E Italia Forza Italia Forza regina Forza Juve E voi Ti fate come me Ci vediamo Alla prossima Vi voglio bene E niente Alla prossima Metto Quell'altra maglia Oggi Ho fatto Questo video E ho messo Ciao Ciao Belli Vi saluto Ciao John Zina Gio Menezine E cucù Sattamamau Mazziti Ma di bravi Non fate i scemi Ma Sì scemi Non Non la smettono Perché parlo sempre di loro Così si stufano E Non pensano a me Basta Non voglio parlare più di loro Voglio parlare solo dei fan E delle persone Che mi seguono Quelle che vogliono i saluti eccetera eccetera ciao ciao raga io chiudo ok vado io fate i bravi ciao raga